E guardate cosa succede, io ho selezionato questa pistola, non ho ancora fatto rifornimento e questo qui già conteggia, guardate, ora io sollevo la pistola, sentite il rumore? Si attiva, non sta erogando benzina, ma questo qui conteggia, 45, 46, 48, 50, quindi capite che io non sto facendo benzina, non sto facendo benzina e questo conteggia, è un pagamento fatto con i Bancomat e mi troverò i soldi in meno, quindi io tornerò indietro e vorrò i soldi indietro dal distributore, questo video è la riprova, secondo loro, le tre pompe sono queste, secondo loro io ho già fatto un euro di benzina, adesso io vorrei appoggiarlo,